Il nostro assessore, Strici Inquadrano, se abbiamo questo palazzo probabilmente è una sua volta, un palazzo storico che cerchiamo di renderlo il più accogliente possibile, aprirlo alla città. Poi viva anche la moglie, i figli commossi ed è giusto così, ricordare in questa città, dove poi lo sappiamo bene, nella cultura della legalità, nella cultura del verde, nella cultura del verde, qualcosa che sia di tutti, non c'è. Allora avere queste persone, questi esempi, è un orgoglio per la città e per tutti. E' anche un esempio, poi vediamo anche il lavoro che mi si occupava, perché fare il professore vuol dire dare un qualcosa agli altri, perché nasce dalla cultura, dalla scuola, nel mondo migliore, dove io sono felice in questa giornata di dare un pezzetto del lavoro enorme. Poi in saluto la stampa, per esempio, Gaetano Ponelli, un assessore con me, quando facevo il consigliere comunale, anche lui, molto attento sui reperti di un tempo, sulla memoria, perché poi se non c'è memoria non c'è storia, non c'è futuro. Grazie.